Salve a tutti, sono Valerio Quatrano e siamo ad un'altra puntata del podcast di Tax Planning internazionale. Sono con Luca Taglialatela, tributarista internazionale, fondatore di Trasferimento Sicuro e Soluzione Zeta. Ciao Luca! Ciao Valerio, come stai? Tutto a posto Luca, noi non ci vediamo da parecchio tempo perché tu sei a Malta e io sono in questo momento in Moldavia, in procinto di imbarcarmi per la Georgia. Esatto, infatti mi ero perso un paio di spostamenti, volevo sapere che fini avevi fatto. Sei in buoni territori, territori interessanti sotto il profilo fiscale, quindi mi fa piacere. Sì, venerdì prendo l'aereo e sarò a Tbilisi, però lì aumenterà la differenza di orario perché lì siamo a più 4 da Greenwich, quindi sarà sempre più complicato sentirci. Man mano che passa il tempo mi inoltre sempre più verso est. Va benissimo, io a breve mi sposterò verso ovest, ma quindi ci rincontreremo dall'altra parte del mondo. Va bene? Va bene così. Allora, tornando a noi, questo podcast sarà incentrato principalmente sui motivi per cui un imprenditore dovrebbe trasferirsi all'estero, ovvero quali sono i vantaggi concreti che un imprenditore oggi avrebbe dal trasferirsi all'estero. Luca, vuoi cominciare tu a parlarne? Sì, allora, è un argomento sicuramente interessante che sta a cuore a tutti i nostri clienti, futuri e presenti, perché come chiaramente tutti quelli che seguono sanno, noi ci occupiamo di trasferimenti di residenza e di pianificazione fiscale. Che cosa vuol dire? Che tutti i nostri clienti, in linea di massima, sono clienti a cui le cose vanno bene, cioè sono imprenditori piccoli, medi o medio-grandi che sono partiti da zero, hanno ereditato un'impresa, in molti casi trasformandola da offline a online, perché oggi è grazie al web che si fanno più soldi in particolar modo, e che fondamentalmente vengono da noi con una lamentela precisa e mi dicono, Luca, io ogni anno guadagno sempre di più, ma pago sempre più tasse, cioè in relazione a quello che guadagno è assurdo che io dedichi tutto il mio tempo per poi avere un utile così basso alla fine dell'anno. Quindi è ovvio che, tu lo sai bene, insomma che sei uno di quelli che è partito sul web. Il principio fondamentale, quindi, che noi il messaggio che facciamo passare ancora una volta in questo podcast è che oggi spostandoti e pianificando il tuo spostamento puoi raggiungere un risparmio fiscale prima impensabile e appannaggio soltanto invece dei grossi gruppi. Oggi invece è alla portata di tutti. Assolutamente. Comunque stiamo parlando di persone che hanno un'azienda, un'attività già avviata, che procede bene. Giusto? Non stiamo parlando di persone che magari hanno un'azienda che sta fallendo, allora decidono di trasferirsi all'estero per trovare, per cercare fortuna. No, allora, quello è un altro argomento che mi fa piacere che hai messo in mezzo, perché lo ritratteremo in altri podcast. Quelli sono imprenditori che hanno altri, problemi, sono imprenditori che magari devono difendere un patrimonio accumulato in passato, che adesso è attaccato da Equitalia o sono sotto procedura concorsuale, ma quelli hanno un altro tipo di problema. No, noi oggi ci rivolgiamo a chi ha un business profittevole, inattivo, che insomma se non dorme, non dorme perché lavora di più e per cercare di guadagnare sempre di più e che però, come ti dicevo, alla fine della fiera ha problemi nei confronti sia della tassazione che nei confronti della burocrazia italiana. Quindi diciamo a queste persone che oggi si occupano di servizi piuttosto che di commercializzazione di prodotti, poi chiaramente le casistiche sono varie, le vedremo, che basta davvero poco per accedere a una serie di privilegi, mi piace chiamarli così, fiscali, che gli permetterebbero in realtà di salvare tempo e soldi. Però sì, business profittevoli. Assolutamente, perché se vogliamo ricordarlo c'è uno studio che noi pubblichiamo spesso nei nostri report, uno studio dell'ordine dei commercialisti, che dice proprio così, che al lavoratore dipendente con basso reddito resta il 60% del reddito lordo, al lavoratore dipendente con alto reddito resta il 55% del reddito lordo e al piccolo imprenditore o professionista resta il 37% del reddito lordo. Per cui stiamo parlando proprio di questa categoria qua, giusto? Di persone che producono e poi si vedono proprio succhiato tutto il frutto delle loro fatiche da questo buco nero che poi è lo Stato italiano. Sì, esatto. Allora, che poi tra l'altro è proprio un'inversione di tendenza o quantomeno in controtendenza rispetto al resto d'Europa. Adesso ti spiego meglio questo concetto. Quindi ci rivolgiamo a quei piccoli imprenditori che però magari fatturano più di quei 30-40 mila euro che gli permettono di rimanere all'interno del regime forfettario, perché questo è da dire, noi riconosciamo quando le cose sono a vantaggio degli imprenditori anche in Italia. Chi guadagna poco e riesce a rimanere nei 30-40 mila euro fa benissimo a rimanere in Italia, se non ha intenzione di crescere evidentemente. Quindi se io guadagno 30 e penso di guadagnare 30 per il resto della mia vita, faccio bene a rimanere in Italia. Quanto meno da un punto di vista di tassazione, poi qualità della vita, burocratizzazione, quelli chiaramente rimangono alti, però da un punto di vista fiscale mi sta bene che chi guadagni quella cifra e applichi il forfettino rimanga in Italia, perché alla fine della fiera tolta l'Inps, che quello è il vero problema, paga poche tasse. In realtà la categoria più colpita in Italia è quella dell'imprenditore, come dicevi tu, rispetto a quella dell'imprenditore, che è esattamente l'opposto di quello che accade in Nord Europa, in molti paesi occidentali, dove fondamentalmente l'impresa è agevolata, quindi l'imprenditore in realtà ha la possibilità tramite pianificazione fiscale seria, accorta e attenta, di raggiungere un risparmio fiscale considerevole rispetto invece a quello del lavoratore dipendente, che è la categoria maggiormente colpita. Quindi come dire, lo Stato giustamente riconosce il rischio sostenuto dall'imprenditore e lo premia facendogli pagare meno tasse. Non dimentichiamo, e questa è una cosa che sfugge poi a tanti, Valerio, tu lo sai, ne parliamo spesso, gli imprenditori danno da mangiare ai dipendenti, con tutto rispetto per entrambe le categorie, è giusto, secondo me, che in questa ottica lo Stato riconosca, come dire, un'agevolazione all'imprenditore, perché è quello che poi materialmente va a pagare sia lo stipendio del lavoratore e sia le ritenute da conto allo Stato sullo stipendio del lavoratore, quindi ha una doppia funzione di sviluppo di contribuzione all'economia, all'imprenditore in questo senso, ed è un concetto banale che andrebbe insegnato, secondo me, alle scuole elementari, che invece ai vostri o perlomeno ai politici di chi ci si stia ascoltando in questo momento non vuole proprio entrare nella zucca, no? E quindi continuiamo ad aumentare la trassazione e via di seguito. Tutto questo discorso, tra l'altro, si inserisce in un contesto molto più ampio, che è quella di quella che io chiamo la guerra fiscale, cioè ogni Stato tende chiaramente a tirare acqua al suo molino, perché ricordiamo che nonostante esista una federazione tra virgolette di Stati, che è quella dell'Unione Europea, tu che ne capisci di diritto internazionale, sai di che cosa sto parlando? In realtà poi ogni Stato all'interno dei propri confini è sovrano e quindi quello che molti Stati fanno, adesso l'Italia ci sta approvando, ma a ritardo di mille anni è chiaramente cercare delle agevolazioni per i non residenti e quindi chiaramente noi che siamo sul pezzo e sappiamo esattamente quale Stato ha quali tipo di agevolazioni, possiamo suggerire ai nostri clienti, a seconda del tipo di attività e del tipo di predisposizione anche personale, dove andare, perché? Sì, sì, assolutamente, assolutamente, questa poi è la caratteristica dell'Europa e la bellezza dell'Europa, a differenza di altri paesi come gli Stati Uniti, il Canada, la Cina, questi paesi che sono dei continenti, l'Europa praticamente offre una merida di scelte, se lo staterello in cui ti trovi non ti offre condizioni accettabili, vai in quello a fianco, ti sposti di 500 chilometri e ce n'è un altro con un altro regime fiscale che ti offre magari condizioni nettamente migliori e poi diciamo alcuni storici hanno poi classificato questa caratteristica europea come poi la chiave di successo dell'Europa rispetto agli imperi nell'Ottocento, però questa è un'altra storia, ad ogni modo questa è la realtà, per cui questo è un vantaggio di cui l'imprenditore dovrebbe appunto avvantaggiarsi, ha questa possibilità di poter cambiare regime fiscale con pochi chilometri di automobile e può farlo, quindi restando in contatto poi con altri Stati, poi soprattutto grazie all'Unione Europea che permette di abbattere le frontiere, eccetera. Senza visti, certo, è importantissima questa cosa del visto, a volte quando si va in paesi extra o è non è così facile, non spostarsi, invece noi oggi ci rivolgiamo proprio a chi vuole cogliere due agevolazioni che magari due importanti, come dire, caratteristiche frutte del nostro tempo che magari sono spesso sottovalutate. Uno, siamo comunque all'interno di un'Unione che permette di spostarsi senza visti particolari e rimanerci anche insomma per tutta la vita e due, non ci dimentichiamo che la globalizzazione dall'altro lato non ha portato solo problemi, quindi crisi economica, internazionale, tutte queste cose qui, ma ha portato anche la possibilità di accedere a nuovi mercati tramite servizi prettamente come digitali. Queste due combinazioni, forse voi non ce l'avete mai pensato, ma magari imprenditori un po' più seri sì, danno in realtà accesso a una possibilità di pianificazione pressoché infinita e di risparmio fiscale pressoché infinito, chiaramente all'interno di determinate condizioni epalettiche devono essere studiate con degli esperti evidentemente, però insomma sono cose abbastanza alla portata. Sì sì, assolutamente, spostarsi poi appunto è abbastanza facile. Beh, tu sei sempre in istituto. Grazie sia ai nuovi voli low cost che esistono, sia grazie poi a tutti gli accordi sia intra-UE sia accordi bilaterali, per esempio ci sono parecchi paesi come, che so, l'Albania non è un paese UE, però ha accordi bilaterali con i paesi UE, per cui tu dall'Italia ci puoi andare semplicemente con la carta di identità. La Georgia ha la stessa cosa, addirittura la Georgia ha un programma unico al mondo, quindi un programma pionieristico, che praticamente offre a tutti i cittadini europei e americani la possibilità di restare un anno nel territorio georgiano senza visto, cioè stiamo parlando di cose mai viste nella storia recente degli stati. Certo, ma perché questo si inserisce in quel discorso di guerra fiscale, poi detto in maniera anche piuttosto aggressiva, in cui ognuno cerca di dare un contributo alla crescita economica del proprio PIL, ed è qui che l'imprenditore serio apre gli occhi sul mondo. Si deve infilare in questa guerra tra gli stati. Ma evidentemente è l'unica soluzione che è rimasta a un imprenditore che si trova con un costo della vita, in un determinato paese come l'Italia, con un costo della vita elevatissimo e con un potere dell'acquisto invece bassissimo. Dal punto di vista del mercato è come se fosse una libera concorrenza, ogni stato offre le condizioni che preferisce, quindi poi l'imprenditore sceglie dove stabilire la propria attività e il proprio centro di interessi. Esatto. Per esempio l'Italia è un paese bellissimo, però offre condizioni fiscali terribili. Che cosa interessa all'imprenditore? Vuole affacciarsi e vedere il Golfo di Napoli o vedere il Duomo di Milano? Se gli piace questo deve pagare le tasse. Esatto. Se invece preferisce far crescere l'azienda, spingere l'azienda, quindi avere più profitto, più ricavato da poter investire nell'azienda, farla crescere di più, deve andare in paesi magari meno belli culturalmente, paese giustificamente, ma che offrono condizioni migliori. Esatto. E oggi sono tante le agevolazioni che troviamo in giro per il mondo e sono tantissimi paesi che spalancano le porte agli investitori. Facendo poi attenzione anche a un altro concetto. Quando si lascia l'Italia non la si sta lasciando per sempre e quando si entra in un determinato altro paese non si sta entrando in una gabbia. Cioè alla base comunque di tutti questi spostamenti c'è una libertà di fondo che ti garantisce comunque di tornare, che ne so, in Italia a Natale piuttosto che farti le vacanze a Natale e di rimanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario a sviluppare il lavoro. Poi se ci sono degli altri tempi, se si sceglie di gestire la propria azienda da un altro paese le modalità sono infinite. Quindi trasferirsi può sembrare pesante, in realtà se lo si vive in un'ottica di flessibilità chiaramente parliamo di persone che hanno una certa disponibilità economica evidentemente e poi soprattutto dipende dal nucleo familiare. È chiaro che è una cosa spostarsi da un'imprenditore single che lavora online un'altra cosa è l'industriale con una famiglia di 10 figli che ha la fonderia, l'acciaieria alla confine con l'Austria, è evidente insomma, questa cosa è evidente a tutti non è che qui non vendiamo fumo insomma. Certo, certo. Ma poi diciamo oltre ai vantaggi fiscali ci sono parecchi altri tipi di vantaggi per esempio si pensa al costo della vita, al costo dei prezzi al consumo per esempio sembra una stupidaggine però in realtà incide molto sul portafoglio dell'imprenditore se tutti i rechi in Bulgaria, in Albania, in Moldavia, in Ucraina, in Georgia sono tutti paesi a basso reddito, sono tre paesi più a basso reddito in Europa ebbene questi paesi offrono quindi, permettono di avere dei dipendenti con un bassissimo reddito teniamo conto che se sono in Albania, in Georgia o in Ucraina un reddito normale è tra i 200 e i 250 euro al mese il costo medio della vita è bassissimo per cui anche se tu affitti un appartamento o un ufficio e poi prendi dei dipendenti i costi sull'impresa sono bassissimi quindi mettici il bassissimo costo della vita mettici l'altissimo risparmio fiscale già da queste due voci di spese che svaniscono rispetto all'Italia o alla Francia per esempio e tu hai un vantaggio enorme che puoi reinvestire o nell'impresa o nella tua vita privata certo, noi abbiamo clienti che hanno stabilito il fulcro della propria produzione di servizi in Moldavia però poi magari hanno un call center a Malta e magari però hanno collaboratori che sono rimasti in Italia che chiaramente, come dire, scontano un regime fiscale diverso dal loro padrone di lavoro quindi per questo per far passare un altro concetto cioè nel senso che spesso ci accusano di sciacallaggio ci dicono, ma voi contribuite a depauperare le già scorse risorse dell'Italia a parte che se avessimo questi poteri di politica economica di banca economica non saremo qui a parlare ma saremmo probabilmente su uno yacht con Bill Gates a delineare i confini territoriali come nel nuovo congresso di Vienna quindi mi sembra veramente eccessivo però dall'altro lato, come dire, esistono anche le possibilità di utilizzare dei contratti di lavoro tali per cui se abbiamo un dipendente italiano che non se ne vuole venire con noi dall'altro lato insomma, non è che lo dobbiamo per forza licenziare ecco, questo era il messaggio che volevo far passare sì, ci sono forme di collaborazione, contrattuali che permettono comunque e anche qui c'è bisogno ovviamente alla mano di un esperto di rispettare determinati paletti e condizioni tale per cui il dipendente non c'è bisogno di metterlo in cassa integrazione o di contribuire alla formazione di picchetti come spesso avviene in Veneto per esempio ho visto tantissimi che l'imprenditore dalla notte al giorno prende e se ne va e quello poi è un altro problema ancora evidentemente insomma, è possibile evitare con una pianificazione attenta a questo ci rivolgiamo soprattutto agli imprenditori evidentemente in questo momento a evitare anche problemi poi sociali dei propri dipendenti insomma, ci sono forme certo sì, ma no, perché poi comunque parecchi dipendenti sono estremamente validi cioè, vuol dire, noi lo sappiamo acquisire un dipendente valido per un'impresa è difficilissimo è complicatissimo per cui una volta che ce l'hai non lo vuoi perdere è difficilissimo la formazione è veramente, insomma, chiaramente dopo che hai speso dieci anni dietro un dipendente per formarlo, poi andarsene e perderlo evidentemente è un danno doppio per l'impresa esatto, quindi esistono forme, dico chiaramente, esistono forme di organizzazione si pensa anche semplicemente al telelavoro forme di organizzazione che ti permettono di avere un'impresa all'estero e avere dei collaboratori in Italia è perfettamente lecito, giusto? è perfettamente lecito, è perfettamente lecito è possibile, si deve fare se quei dipendenti sono indispensabili certo poi chiaramente come sai ogni cliente per ogni cliente, ogni tipologia di attività ha il suo studio, ha le sue possibilità di pianificazione quindi una cosa è se ti occupo di servizi una cosa è se vendi prodotti, una cosa è se sei un trader che sono un'altra categoria di clienti a cui noi ci rivolgiamo e che insomma ci contattano spessissimo abbiamo tanti trader tra di noi perché obiettivamente per definizione sono i più flessibili di tutti oggi per i trader è veramente semplice abbattere la tassazione praticamente del 100% quindi è una cosa in mente chiaramente più complicato per chi come dicevamo prima ha un'acciaieria o piuttosto degli stabilimenti di produzione in Italia trovare un significativo risparmio di imposta per quanto riguarda la società però magari poi si può lavorare sul socio insomma ci sono possibilità in ogni caso però ciascuno il suo assolutamente riguardo a questo io per esempio sono stato diciamo in Ucraina ultimamente a Odessa e qui ho incontrato appunto un trader cinese però Valerio scusami se ti interrompo diciamo che cosa vai a fare in Ucraina un giorno i nostri ascoltatori iniziamo a pensare male ci roviniamo anche il target diamo un'anticipazione di quello che stai cercando di quello che stai facendo delle tue attività imprenditoriali in loco certo allora noi diciamo stiamo indagando questi territori dell'est ancora inesplorati alla ricerca di attività di opportunità ma soprattutto di opportunità fiscali per esempio sono stato in Ucraina dove c'è una situazione diciamo in bilico per cui se se riescono a pacificare l'Ucraina l'Ucraina diventa un paese estremamente attrattivo perché il paese in questo momento ha il reddito più basso in tutta Europa e ha delle città veramente molto belle basta vedere Odessa o Liviv dove ci vengono in vacanza i russi per cui per molti europei che vogliono investire in appartamenti gli italiani adorano le case potrebbero tranquillamente acquistare degli appartamenti a Odessa che è una nuova qualità turistica dove arrivano tutti i russi cioè per i russi Odessa è un paese caldo è un posto caldo tieni conto che Pietro il Grande nell'Ottocento veniva a fare i bagni a Odessa per il medico gli diceva che doveva prendere un po' di sole a Odessa insomma Valerio è il nostro ariete ecco vai in una scoperta esattamente esattamente capito quindi ci sono per esempio adesso Tbilisi Georgia sarà attraversata dalla nuova dalla nuova via della seta cinese che praticamente collegherà Hamburgo e Shanghai in quattro ore di treno quindi stiamo parlando di cose incredibili cose assurde cioè addirittura sarà più veloce andare col treno con l'aereo vabbè meraviglioso meraviglioso e quindi tanto sviluppo economico tanto PIL che cresce quindi agevolazioni free trade zone con la pala cresceranno intorno a queste poi la Georgia comunque è uno dei paesi che è considerato il paese più riformatore al mondo della banca mondiale per cui ci sono parecchie possibilità poi si tenga conto che gli italiani viaggiano girano sono tra i più per cui interessa gli italiani sapere dove poter investire dove poter andare dove potersi appoggiare e se non interessa gli deve interessare perché ci sono tantissime opportunità da sfruttare che oggi in Italia per una serie di motivi non sono più a disposizione negli anni 60 lo erano ora ce ne sono di meno diciamo soprattutto per chi non ha dei portafogli particolarmente complessi assolutamente assolutamente diciamo poi quali sono altri interiore ah ti stavo raccomando una cosa che mi hai fatto interrotto c'è questo trader cinese che sta ah sì scusate che praticamente c'è questo c'è un milione un milione lui per esempio è entrata sullo stock market di Shanghai non a nome suo ma a nome del fratello perché lui se lui esce dal paese non può essere più perde la cittadinanza vabbè ma si chiameranno allo stesso modo no? sono cinesi esattamente chiedo scusa allora che cosa fa questo cinese questo cinese non ha a questo momento non paga tasse da nessuna parte perché non è più cittadino non è più cittadino cinese e e praticamente gira gira adesso adesso l'ho sentito da poco andrà in Romania e gira per tutto l'est Europa tradando sullo stock market cinese pagando 0 0 in posizione fiscale ho capito ho lasciato che stava nella zona del Donetsk dove c'è stata una guerra civile ottimo stava cercando moglie là non so che fine abbia fatto che grande va bene insomma qui non è esattamente il nostro cliente tipo però però la gente lo fa la gente c'è c'è gente che lo fa c'è gente che lo fa naturalmente guardi anzi io voglio dire una cosa ci sono tanti trader che si rivolgono a noi e che ci chiedono posso rimanere in Italia non pagando il capital gain del 26% la nostra risposta è chiaramente sempre la stessa no non è possibile ci sono persone che per arrivare alla tassazione dello 0% sul trading online si mettono in mezzo a dei casini ma commettendo anche appunto delle infrazioni piuttosto significative che sinceramente a mio avviso oggi non ne vale assolutamente la pena insomma ti metti in mano a dei rischi per risparmiare un 20% di tassazione certo su un milione di euro capisco che faccia gola però non ci dimentichiamo che viviamo in un'epoca di scambio di informazioni totali quindi quello che non si sa oggi probabilmente lo si saprà domani esattamente così come gli imprenditori hanno enormi strumenti a disposizione anche l'agenzia fiscale ce li ha per cui si gioca molti di più degli imprenditori molti di più molti di più poi c'è una cooperazione a livello internazionale tra le agenzie di tutto il mondo che si sta sviluppando anche di questo ne parleremo faremo un po' di cast apposito per farvi capire insomma in che mercato poi si gioca il si gioca la pianificazione chiaramente assolutamente sì sarebbe interessante poi pure capire appunto come funzionano gli scambi di informazione lo faremo senti allora io concluderei ancora dicendo che ci sono altri altri motivi per cui un imprenditore potrebbe avere interesse ad andare all'estero per esempio che so la lingua se tu ti trasferisci in un paese come Malta dove sei tu in questo momento Malta è un paese dove l'inglese è lingua ufficiale giusto? esatto sì diciamo che noi italiani che spesso sentiamo il bisogno di soprattutto diciamo quelli della nostra età non dico le nuovissime generazioni però sopra i 30 si sente l'esigenza Malta potrebbe essere un grande un esempio una destinazione importante da questo punto di vista anche perché quello che prima era anzi sta diventando quello che prima era Londra chiaramente per via del costo della vita che a Londra è diventato insostenibile quindi molti si stanno spostando a Malta esattamente questo poi abbiamo scritto anche nel report inviato quello cartaceo sì a settembre 2016 si quindi per cui Malta potrebbe essere una meta che poi Malta tra l'altro rientra nel triathlon system che sarebbe questo sistema proprietario che tu hai inventato insieme a questi tributaristi del nord Europa insieme ai miei colleghi diciamo tutti i colleghi di LLM tutti i colleghi diciamo fondamentalmente che sono poi parte in realtà del nostro network internazionale noi di base ci incontriamo mai meno di una volta all'anno per aggiornarci sui trend delle fiscalità di tutti quanti i paesi e cercare di capire quali strutture tengono e quali no perché chiaramente bisogna fare le cose per bene a certi livelli quando si gioca con certi interessi economici soprattutto quando si gioca tra virgolette quando c'è in ballo la vita di altre persone quindi facciamo le cose con estrema attenzione e medicolosità noi abbiamo sviluppato in questi ultimi anni un sistema molto interessante che è quello del trial and system che addirittura permette di portare la tassazione pressoché a zero chiaramente in maniera devo dire serena anche se questa parola magari può far ridere ma in maniera piuttosto serena e semplice quindi non è soltanto risparmio fiscale quello che offre questo sistema ma soprattutto una burocratizzazione ridicola pressoché inesistente che poi è quello che interessa ancora di più all'imprenditore al di là del risparmio fiscale perché se io risparmio fiscalmente ma poi devo fare a stare adempimenti e pagare anche che ne so i commercialisti tutti i giorni perché ci sono mille cose da fare in realtà invece con il trial and system risparmi non solo soldi ma anche tempo da dedicare evidentemente al business e l'abbiamo sviluppato nel corso di questi ultimi anni con i nostri colleghi tra i quali ci rincontreremo adesso quest'agosto a Rio de Janeiro tutti quanti ripeteremo ci sarà anche un update del sistema e vedremo insomma come come farlo muovere anche in Sud America ma insomma questo poi sono altri argomenti adesso mi dilungo troppo assolutamente sì dunque questo diciamo sono ormai quasi 30 minuti quindi quasi mezz'ora c'erano fissati in una mezz'oretta di discussione dunque questi sono i motivi per cui poi ce ne sono anche altri però che ci sfuggono in questo momento però questi sono quelli principali per cui un imprenditore avrebbe interesse a trasferirsi all'estero o se non lo ha dovrebbe avere interesse quantomeno a cominciare a guardare no? al di là del confine a capire quali sono le sue possibilità perché ce ne sono a seconda del business ce ne sono addirittura anche senza spostarsi potrebbero essercene quindi teniamo un occhio ovviamente se la vostra intenzione e anche qui lo dico a proposito di quei trader è quella di aprire società al fantasma o rimanere in Italia e aprirvi la vostra società all'estero incassando su conti correnti esteri diciamo che per voi non ci sono grosse possibilità però per imprenditori seri che hanno voglia di di crescere in sicurezza ci sono tante possibilità assolutamente dunque io chiuderei qui questo podcast e inviterei tutti al prossimo incontro al prossimo podcast ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.